Enzo Paolo Turchi, noto coreografo e marito di Carmen Russo, ha fatto parlare di sé partecipando alla diciottesima edizione del Grande Fratello. Dopo un'esperienza non positiva all'Isola dei Famosi, Turchi ha deciso di ritentare la fortuna in un reality show, ma la sua avventura si è interrotta prematuramente. Intervistato dal settimanale Chi, Enzo Paolo Turchi ha finalmente rotto il silenzio e ha raccontato per la prima volta la sua esperienza al Grande Fratello, svelando anche un retroscena sul suo ritiro. Il coreografo ha spiegato di sentirsi meglio dopo aver partecipato al reality e ha ringraziato il Grande Fratello per l'opportunità. Turchi ha raccontato tutta la sua avventura nella casa più spiata d'Italia, fino al momento del ritiro dopo 56 giorni di permanenza. Ha ammesso di sentire la mancanza della casa che ha vissuto nei primi due mesi, ma ha dichiarato che gli intrighi e le rivalità non sono ciò che più gli manca. Enzo Paolo Turchi ha anche rivelato che il suo ritiro non è stato una scelta volontaria, ma è stato costretto a lasciare il programma per motivi di salute. Ha ringraziato i ragazzi della casa per il sostegno e ha espresso il suo parere sulle dinamiche del reality. Turchi ha anche lanciato una frecciatina a Stefano De Martino, sottolineando le somiglianze tra le loro storie. Infine Enzo Paolo Turchi ha parlato dell'importanza che il grande fratello ha avuto per lui nel superare alcuni nodi del passato e ha ringraziato la moglie Carmen Russo per averlo spinto a partecipare al reality. Concludendo ha espresso la sua stima per De Martino e ha irratitato la sua stima per De Martino.